Questo rompicapo si chiama il tubo e l'obiettivo è quello di far uscire la pallina dal tubo e ci sono due soluzioni. La prima è provando a caso, infatti una persona può stare qui diverso tempo provando a far finire la pallina nel tubo, ma diciamo con scarsi risultati, mentre il secondo metodo che è quello più interessante utilizza questo foglietto illustrativo sul quale c'è scritto use our tube map for your way out. Sostanzialmente dobbiamo inserire questo foglietto all'interno del rompicapo, farci finire sopra la pallina e successivamente inclinando la pallina, così sfilando il foglio, può uscire. Et voilà, seguimi se vuoi vedere altri rompicapi.